Oh bucaioli, siamo qui all'antica fornace di Impruneta L'antico zavaione toscano, andiamo a mettere 50 grammi di fumo 00 polline E in marsala, mi raccomando, andiamo a rimestare nella ciocola di cane Vedete che specialità Vedete che classe, ragazzi, con la mano a parare perché un abbia a schizzare Delle antiche anfore in terracotta tipica dell'Impruneta Vedete, dalla scolatura dell'anfora si capisce gli anni e anni, diciamo, di lavorazione di famiglia A vedere la scolatura, secondo me, al piano di sopra c'hanno anche, diciamo, la gabbia dei colombi Anche perché almeno poi c'è il lovino fresco tutte le mattine Una bella risciacquata alle mani e via, il cencino bracci e via E si riparte la colazione dei campioni Anche perché il lovino fresco alla mattina, diciamo, ti dà quella botta per partire Ti dà quella spinta, capito? Quella spinta e poi dopo tu va anche al gabinetto E a cara spruzzo la scafaiola Perché in quest'acqua, diciamo, dell'Arno, tipica, presa, diciamo, di mugnone, ancora meglio Si va a sciacquare quello che è poi, diciamo, la colazione di campioni Come si diceva prima, vedete, l'olio alla mano, fizzi alla mano Perché a volte fa anche irritazione, diciamo, un po' alle mani Sai, lavorare sempre con queste sostanze, diciamo, non fa bene Non ne giova proprio alla pelle Comunque, il segreto dell'antico forno dell'Impruneta Taglia appunto l'anfora in terraotta, diciamo Perché ci va in più buono, ci va in più saporito Vedi, ovino fresco e via, ragazzi Uhlala e la mayala esuma Vedete che spettacolarità Ciao, ciao, ciao Ciao, ciao Ciao